Bruno Tedino sarà il nuovo allenatore del Teramo. L'ex Portenone Palermo avrebbe raggiunto già un accordo con i dirigenti biancorossi per prendere in mano il Diavolo nella prossima stagione. Quello di Tedino non è stato l'unico nome analizzato dalla nuova dirigenza del Diavolo dopo aver sondato il terreno con Alessio Dionisi dell'Imolese, che piace però anche alla Juventus primavera, nella giornata di ieri l'accelerazione. Con il tecnico che ha scavalcato in un colpo solo anche Massimo Drago e Andrea Camplone, due che avevano grandi possibilità di sedersi sulla panchina biancorossa. Dunque, come era nelle previsioni, la società ha deciso per il ribaltone con Genore Maurizzi, a cui nelle prossime ore sarà comunicato l'interruzione del rapporto che aveva durata fino al 30 giugno 2021. Adesso si ragiona sulla durata del contratto con quello che dovrebbe essere il prossimo tecnico. Escluso l'accordo annuale proprio in virtù del fatto che la preferenza è per un progetto a lunga scadenza, dunque o un biennale più probabile, oppure un triennale, con Tedino che nel caso dovrebbe risolvere il proprio rapporto con il Palermo prima di poter firmare con il Teramo. Con tutta probabilità insieme a lui arriveranno anche l'allenatore in seconda e il preparatore atletico, ma non il preparatore dei portieri. Triennale invece è il contratto che dovrebbe siglare Andrea Iaconi, che dunque sta per mettere il primo tassello nella costruzione del nuovo diavolo del neopresidente Franco Iacchini. Durante il vertice che c'è stato tra Tedino e la società Teramana nelle ultime ore, pare siano usciti anche dei nomi di giocatori per costruire un organico che andrà rifatto praticamente da capo. Per le ufficialità bisognerà però attendere perché le questioni burocratiche passate del tecnico vanno prima messe a posto per poi procedere alla sua presentazione, che dovrebbe avvenire nello stesso giorno di quella di Andrea Iaconi. Insomma, la prima casella, quella sulla quale cominciare il nuovo progetto a questo punto, c'è. La settimana prossima sarà quella nella quale dovranno essere risolti gli impegni precedenti, per cercare di iniziare prima possibile col calcio mercato, anche considerando che il prossimo 15 luglio il Teramo va in ritiro a Rivisondoli, cominciando la stagione del rilancio, in quale il loro aggruppamento però non è dato ancora sapere. Tedino, dopo la varetesi sfortunata in Serie B col Palermo dunque, col doppio esonero, riparte da un gradino sotto per provare a replicare quanto di buono si è visto negli anni di Pordenone.